Ti do il benvenuto in questa playlist. Una delle preoccupazioni dei miei lievi che devono affrontare il nuovo esame di Stato è l'orale. Una delle parti dell'orale è deputata a quella che viene definita una presentazione multimediale, una prova che mette in associazione anche i più audaci. Il fatto è che noi insegnanti utilizziamo spesso questi strumenti per fare lezione in aula, ma raramente dedichiamo tempo per insegnare ai ragazzi come produrne uno di efficace. Efficace nella comunicazione. Nel mio percorso di lavoro ho visto molte presentazioni ben fatte, ma ne ho viste anche di molto brutte. Brutte perché non efficaci. Ho preparato per gli allievi del mio istituto e per te una serie di tre video che ti serviranno a riflettere prima e ti daranno gli strumenti poi per produrre una presentazione che possa essere efficace. Questa serie di video è pensata anche per coloro che desiderano migliorare la loro esperienza nella preparazione della presentazione e migliorare nella performance del presentare. Buon lavoro. 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 Buon lavoro.